il terzo speriamo di divertire e di rimarrere un pochino però guardate quanto è bello il nostro batterista è lento in tutto figa se si è lento fai solo la batteria invece che la fotografia o cantare la batteria invece che la batteria invece che la batteria invece che la batteria la batteria invece che la batteria invece che la batteria invece che la batteria Grazie a tutti 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 Grazie a tutti